Quando qualcuno nel quartiere di Cisanello aveva bisogno di qualche euro, ma anche più di qualche euro, anche centinaia di euro, ma anche, che dico, anche migliaia di euro, c'era soltanto una persona alla quale rivolgersi. Questa persona era sempre seduta a un tavolino nel bar qua dietro, sorseggiando il suo ponce alla Livornese. Nessuno, quasi nessuno sapeva il suo nome, tutti si riferivano a lui con il suo soprannome, lo chiamavano il faccendiere. Anche io, un giorno, avevo bisogno di 200 euro per riparare la mia auto dopo un tamponamento e decisi di recarmi a chiedere 200 euro al faccendiere. Alle 6 di sera arrivai al tavolino, mi sedetti con lui e ordinai un aperitivo analcolico. Lui stava bevendo il suo ponce, lo guardai negli occhi, ci guardammo lungamente, il faccendiere era famoso perché non parlava quasi mai. Lo guardai negli occhi e gli dissi, faccendiere, ho bisogno di 200 euro. Lui mi guardò negli occhi a sua volta, mi fissò lungamente come se studiasse il mio vestito e come ero messo per decidere se darmi o meno i soldi. Si soffermò particolarmente sulle scarpe. Poi mi riguardò di nuovo negli occhi e mi disse una frase che ricorderò sempre. Siamo al futuro parco di Cisanello, almeno così noi speriamo, per una serata di festa, festa spontanea e popolare, per far conoscere alle persone del quartiere e di tutta la città questa bellissima area che è nel cuore di Pisa, nel cuore di uno dei quartieri più abitati e che in pochi conoscono. È un'area da molti anni abbandonati, in tempo c'erano campi, adesso non c'è più nulla. È abbandonata in attesa di previsioni urbanistiche, prima la nuova sede della provincia, poi forse lo spostamento dell'area del complesso del concetto Marchesi e altre cose ancora che mai si realizzano e mai forse si realizzeranno. Allora, secondo quanto diceva anche il piano strutturale, un piano fondamentale della città, riprendere in mano la previsione di parco urbano. Pisa ne ha bisogno e è possibile, è possibile perché ancora non è stato fatto nulla, l'area è completamente verde, tra l'altro nel frattempo ci sono cresciute una flora, una fauna molto particolare, quindi è una vera oasia nel cuore della città. Questo lo diciamo come associazione ambientalista, Elegambiente, WWF, LIPO, altri gruppi come Moschito e il Comitato per la salvaguardia dell'Acquedotto Medicio, ma soprattutto lo dicono 2099 persone che hanno firmato la nostra petizione, che chiede al Comune semplicemente di ripensare ai propri piani e di rivedere insieme con la popolazione, con un percorso partecipato o comunque di coinvolgimento della città, di rivedere le proprie scelte e di prevedere in quest'area un parco, un parco vero, un parco a livello europeo, che nella nostra città manca e soprattutto se non si realizza qua non si può realizzare altrove. Se volete che la frase del faccendiere ricordi vagamente la sua storia, scegliete me. Se volete che il faccendiere mi dica, t'hanno cato sulla scanta, scegliete me. Vostro voto. Negli ultimissimi mesi si è creato un'attenzione particolare per chiedere che nel quartiere di Cisanello, così trafficato, popolato, esista finalmente un parco per gli abitanti di tutte le età, che sia fruibile, che sia uno spazio di svago, di libertà, di socialità, che sono ingredienti essenziali per la vita di una città. E quindi, accanto a tanti altri servizi che può offrire l'area, è veramente necessario che il verde abbia la sua attenzione. Speriamo che davvero ci sia un dialogo con le amministrazioni, perché sia ritenuta veramente un'occasione per migliorare la città. Ecco.